La droga dell'Isis nelle mani della Camorra. È il sospetto degli investigatori italiani dopo il sequestro a Salerno di 14 tonnellate di anfetamine, 84 milioni di pillole con il logo Captagon, prodotte in Siria per finanziare il terrorismo. Il valore sul mercato dello stupefacente è di oltre un miliardo di euro. Si tratta del più grande sequestro mondiale di anfetamine. La droga è stata scoperta anche in un carico di motori industriali. La Guardia di Finanza si è dovuta rivolgere a una ditta specializzata per estrarre le pillole dai motori. Sono in corso indagini per identificare i sospetti. Potrebbero far parte di un cartello camorrista in grado di commercializzare le sostanze sul mercato internazionale. Secondo gli investigatori è probabile che si tratti di un consorzio di gruppi criminali, sia per il valore totale delle spedizioni, sia per la distribuzione nei mercati di riferimento. Dopo la fine del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria, molti trafficanti potrebbero essersi rivolti alla Siria, la cui produzione non sembra aver subito rallentamenti. Per l'Isis è facile produrre grandi quantità di droghe sintetiche. Secondo la DEA, Drug Enforcement Administration, l'Isis è uno dei maggiori produttori di droga nei territori sotto il suo controllo. Il Captagon è venduto in tutto il Medio Oriente ed è diffuso tra i combattenti per inibire la paura. Questa droga, inizialmente prodotta soprattutto in Libano, è diffusa in Arabia Saudita negli anni 90 e ricomparsa nei nascondigli dei terroristi che presero parte all'attacco al Bataclan a Parigi nel 2015 ed è per questo che è stata soprannominata la droga dell'Isis o la droga della Jihad.